Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, firma l'ordinanza di riapertura delle scuole e lunedì, 11 settembre, in città si torna in classe regolarmente. Gli alunni teramani rientreranno nelle proprie scuole, ad eccezione di quelli dell'elementare Fornacicona, dislocati al Forti, e quelli dell'Istituto Superiore Marino, che torneranno in aula tra una settimana. Le polemiche però non mancano, l'opposizione attacca sui fondi non utilizzati negli anni passati dal sindaco per mettere in sicurezza le scuole, mentre alcuni genitori protestano sulla mancanza di chiarezza degli indici di vulnerabilità degli stabili scolastici. Il punto della situazione è che le scuole riapriranno tutte, le scuole di Teramo, diciamo tutte più o meno nel proprio stabile, tranne la Fornacicona, che ha avuto una sistemazione all'interno del Forti, perché le ultime prove che sono state effettuate in LC3 hanno migliorato gli indici di alcune scuole che erano più preoccupanti. Però è vero che ripartiamo con un po' di timore, anche se l'amministrazione, il sindaco ha fatto tutto quello che c'era da fare, i tecnici che sono stati chiamati, che hanno effettuato le prove, hanno fatto proprio questo, hanno cercato di spiegare tutta l'attività che è stata messa in atto, però ricordando che questa valutazione ha permesso di monitorare la situazione delle scuole. Il futuro? Il futuro io credo che sia questo, noi ci dovremmo concentrare sulla serenità del momento, nel senso rientrare con serenità, ma non abbassare mai la guardia, e anzi piuttosto concentrarci su tutti, amministrazione comunale, dirigenti, genitori, su quello che è invece il futuro, e sulla messa in atto di tutte quelle programmazioni che le amministrazioni hanno fatto, provinciali e comunali, questo potrà accadere solo se saranno rispettate le promesse dei fondi. Inoltre l'amministrazione comunale di Teramo rende noto che entro un anno saranno realizzati 1.500 nuovi posti all'uno sui 4.325 delle scuole comunali. Un messaggio ai ragazzi che rientrano? Allora, un messaggio ai ragazzi è che noi gli auguriamo un buon anno scolastico in serenità, e questo messaggio lo vogliamo dare anche ai genitori, che io comunque comprendo. Mi raccomando, collaborate anche con i docenti e i dirigenti, perché noi li abbiamo addestrati e allenati, anche per delle prove di evacuazione sicure, ci vogliamo sicuramente proiettare verso un anno più ottimista e senza problemi.